Un tandem affiatato per guidare nella prossima stagione sportiva l'Aquila Rugby Club. Ludovic Mercier è coach allenatore dei tre quarti e Dragos Gabriel Nicolae, allenatore della Mischia. Due ex giocatori di esperienza internazionale che hanno già giocato e allenato insieme. Coach Mercier ha giocato in Italia nel Petrarca Padova e nella formazione Aeroni. Vengo per vincere, ha detto, non mi è mai piaciuto perdere né da giocatore né da allenatore. L'obiettivo è di fare molto meglio dell'anno scorso già e dopo vedremo con i giocatori che quando rinsieme la stagione parleremo fra di noi perché conosciamo già qualche giocatore che rimangono e quelli che arrivano più tardi e questo lo faremo insieme e chiederò anche a qualche giocatore quello che vogliamo fare perché sappiamo che una stagione sarà difficile questa stagione e noi quello che vogliamo e speriamo di farlo con loro. Molto più cauto il presidente del club Mauro Zaffiri che spiega che per il momento nessun'altra società ha fatto richiesta per atleti neroverdi. Le risorse? Bisogna trovare nuove entrate, dichiara. Non facciamo promesse per ora, le difficoltà ci sono e non le nascondiamo. La preparazione della squadra, lo ricordiamo, inizierà il prossimo 3 agosto, il campionato inizierà il prossimo 10 ottobre.